Buongiorno, benvenuti a tutti. Come sapete oggi pomeriggio avremo un momento insieme per presentarvi un pochino la Svizzera e come è organizzato il nostro Stato. Ciao, benvenuti a tutti. Siamo oggi qui per raccontare cosa è la Svizzera e come si organizzano il nostro Stato. Allora, io sono Manuela e noi lavoriamo per il Ministero dell'Educazione di questa regione, del canton Ticino. E quindi nel nostro istituto, nel nostro lavoro, ci occupiamo anche di lezioni di civica e di corsi per la cittadinanza, per chi viene dall'estero e poi richiede la cittadinanza svizzera. E' per questo che è stato chiesto a noi di passare nei centri e di avere un momento di scambio insieme a voi per presentarvi un po' il nostro paese. Io mi chiamo Alè, anche io lavoro per l'Istituto della Formazione Continua, sono il vice direttore, lei non l'ha detto mai la direttrice dell'Istituto. E sono qui anch'io per parlarvi un po' di civica. Io solitamente insegno economia e diritto, sempre all'Istituto, e poi svolgo a vedere le mansioni amministrative. Mi chiamo Alèo, Manuela non ha detto che è il direttore dell'Istituto, ma io sono il vice direttore, e io sono qui con la stessa stessa. Iniziamo dandovi il benvenuto. Nadia vi ha già spiegato che abbiamo altri colleghi di altri ministeri che risponderanno a delle domande forse urgenti che avete o che vi ponete in questo momento. Nadia vi ha già spiegato che ci sono anche altri ministeri, potremmo che adesso ci sono alcuni problemi di altri plan, altri momenti. Quindi avrete nei prossimi giorni dei colleghi che verranno a parlarvi del sistema educativo, delle assicurazioni sociali, piuttosto che tutti i vostri diritti, che cos'è il permesso S, che cosa vi permette di fare, la fiscalità, e problemi probabilmente anche abbastanza pratici e concreti che avete in questo momento. In prossimi giorni ci saranno lezioni, e ci sono in questo caso, a domande che riguardano l'ambrazione, a domande che riguardano l'ambrazione sociali, a domande che riguardano l'ambrazione e gli altri domande. Ci saranno in prossimo giorno o ci sono? Invece noi in questo momento vi presentiamo un pochino come funziona il nostro Stato o qualche principio della Svizzera, in modo molto semplice e sintetico. No, oggi noi vi presentiamo gli organizzazioni principali dell'istruzione svizzera. Sì, voilà. Allora, da questa prima slide vediamo in fin dei conti la cartina dell'Europa. Questo era unicamente per dirvi da dove siete partiti, quindi dall'Ucraina, per arrivare in questa piccola nazione, che è abbastanza centrale, però vedete con molto meno abitanti dell'Ucraina. Siamo circa in 8,5 milioni, quando voi ne fate 44, mi sembra. Siamo circa in questa piccola. Tra quanti sono? Tra quanti sono. Ok, va bene. Comunque sulla Svizzera vedete che siamo uno Stato al centro dell'Europa, geograficamente, ma politicamente la Svizzera è uno Stato neutro e quindi non fa parte dell'Unione Europea. Cioè, se la carta vedete che la Svizzera è in centro dell'Europa, cioè è una centrale dell'Europa, ma per quanto riguarda un altro dispositivo, la Svizzera è una strada neutrale, non valutata dall'altro dell'Europa. Sì, qui deriva già, in fin dei conti, voi sapete che noi siamo un po' un popolo che va spesso a votare durante l'anno. Il senso di democrazia è proprio il popolo che poi vota e può decidere cosa succede nello Stato. È vero, è uno Stato indipendente, siamo fuori praticamente dall'Europa. Già nel 1991 non si chiamava ancora Unione Europea, era lo spazio economico europeo, però in Svizzera non è passata la votazione per aderire a questo spazio. Ed era una percentuale veramente risicata. Mi sembra il 50,3% che aveva detto no e quindi la Svizzera non ne fa parte a partire proprio da quegli anni. E' ancora l'ultima cosa. Nel 2001 invece siamo sempre andati a votare per entrare proprio nello spazio europeo, quindi nell'Unione Europea, però lì più del 65% ha detto di no. Questo vuol dire che a partire da lì però, visto che vedete siamo più o meno al centro, comunque nella direzione del sud e del nord dell'Europa, abbiamo dovuto fare quelli che si chiamano dei trattati bilaterali con le varie nazioni per poter commerciare con loro. In 2001 году проводилось очерedone голосovano... 60 o 70 o 60? 60 o 60 o più del 66. E' uguale 65% dierni si se chiamano di nuovo negativi adersi di ispettamento come un'euro vince vince. Tuttavia, ci sono momenti di lavoro. Abbiamo una maggiornazionale, ciò vi raccomando un po' dopo. Una delle conseguenze è che noi abbiamo i franchi svizzeri e qui non si usa l'euro. C'è alcune difficoltà in business, in vizioni di business. Non l'abbiamo detto, ma se avete domande, le fate. Se avete domande, spiegate, per favore. E' nata dall'alleanza di piccole popolazioni che si sono promesse sostegno reciproco e solidarietà per difendersi da tutte le popolazioni che c'erano attorno. Piano piano, poi nel tempo, senza raccontare tutte le tappe, questa regione iniziale è diventata sempre più grande e sempre più popolazioni attorno al primo nucleo del 1291 ha continuato a far crescere la nostra nazione. E ognuno di questi piccoli territori che ha composto la Svizzera come pezzi di un puzzle ha mantenuto una certa autonomia. Dopo ve ne riparliamo. E come puzzle, poticcone, queste piccole territorie stavano in un puzzle e stavano autonomi. Ma stavano, scusate, autonomi. Ecco, e oggi la Svizzera è così come la conosciamo, con i confini che ha dal 1848. E a partire dal 1848 si può dire che il disegno partito è questo della Svizzera proprio perché è arrivata la prima Costituzione. La prima Costituzione, tra l'altro, è nata da un piccolo conflitto che c'era all'interno della Svizzera, quindi un conflitto civile nel 1847, nella battaglia del Sonderbund, che in positivo ha creato proprio questa Costituzione abbastanza importante, quindi che mette assieme diverse piccole repubbliche, che si vengono chiamati cantoni. E quello che vedete adesso, a parte un cantone, prima il canton Berna era più grande, nel 78 si è diviso in due, e dal 78 abbiamo anche il canton Giura, che è venuto a far parte appunto della Confederazione Elvetica. In 1846 hanno già piccato a connesso della Costituzione, che è stato trovato un'altra parte dellerusse, la prima volta che aveva la piccola cerchandola. In effetti così avversa va a preparare la scuolazone del cantono, e in effetti l'interno della scuola dell'interno della scuola, che si trattava stata da un autonome cantoni che si trattava una parte dell'interno di cittadinanza, che si trattava un chiamato centone di un cantono già, poi si trattava di un cantono di cui si trattava una locura, poi si trattava un cantono di inizia che si trattava una scuola di cantono di Citt posizione, Quindi come si diceva, la Svizzera è un insieme di tanti piccoli pezzettini, è uno Stato quindi federale e quindi è una confederazione. E quindi alcune cose per esempio restano di competenza della confederazione, ad esempio la vostra entrata quando vi siete registrati, la competenza per il permesso S è stato deciso a livello centrale della confederazione. Forse alcuni di voi sono arrivati in altri cantoni o sono arrivati da altri punti della Svizzera e a livello federale si sta decidendo in questo momento dove si spostano le persone che richiedono l'asilo in Svizzera. Quindi alcuni domande rispondono a livello federale, ad esempio domande vostra presso, permesso che vi ricevete, questi domande rispondono a livello federale. Poi abbiamo un altro livello, che è quello dei cantoni. Vi dicevamo prima, la Svizzera è un puzzle di 26 pezzi. E questo è il risultato della storia che vi abbiamo raccontato prima. Quindi questo fa che oggi in Svizzera ci sono delle lingue diverse, delle religioni diverse, delle culture diverse. E alcune cose sono di competenza cantonale, come per esempio il sistema educativo. Quindi le scuole e le varie scuole che seguiranno i vostri figli, se avete dei bambini o dei ragazzi che fanno la scuola, sono diverse da un cantone all'altro. Oppure un'altra competenza cantonale è quella legata alla polizia, alla sicurezza. Ogni cantone è indipendente nell'organizzazione della propria sicurezza pubblica e ci sono quindi anche delle regole e delle leggi un pochino diverse da un cantone all'altro. Magari qualcosa che è possibile fare in Ticino non è possibile fare nel cantone grigione. E che riguarda le domande, le domande che curano la polizia, sono anche domande di cantonale e anche dei regoli che possono differenziare dal cantone all'altro. Sì, andiamo sull'entità più piccola, l'istituzione più piccola, che è il comune. E adesso, ad esempio, siamo ad Arzo, Arzo fa parte del comune di Mendrisio, quindi siamo nel sottocenere ed è un comune, come è stato detto prima, indipendente o comunque che ha dei compiti che si assume lui medesimo. E, ad esempio, noi siamo in Arzo, Arzo fa parte del comune di Mendrisio e... scusate, ultima... No, che si prende dei compiti anche il comune. Per esempio, la scuola elementare e la scuola materna sono le prime due scuole, quindi quelle dei piccolini fino a 5-6 anni e poi l'altra scuola da 6-11 anni sono di competenza del comune. Quindi, a dipendenza, se avete dei bambini, a dipendenza del comune dove andrete ad abitare, i vostri bambini andranno in una scuola di quel comune o di quel gruppo di comuni. E se noi parliamo, ad esempio, di una scuola principale, cioè dove andremo i bambini in una scuola principale, è anche la competenza del comune. E la comune rischia in quale scuola va il vostro bambino. Ok, quindi tre organizzazioni della Svizzera. Tre organizzazioni della Svizzera. E per questo che, a volte, quando fate delle domande, vi diranno che dovete chiedere al comune... Allora, se dovete chiedere al comune, dovete andare nella casa comunale del comune dove abiterete, che si chiama Municipio. E lì c'è una persona che è il segretario comunale, che vi darà tutte le informazioni che riguardano il comune. E se avete alcuni domande che riguardano la comunale, quindi dovete andare nel dom comunale, che si chiama Municipalità. E lì un personale, un segretario comunale, risponde su tutti i vostri domande. Poi, invece, se vi dicono che dovete chiedere al cantone, allora la capitale del Ticino è Bellinzona. E allora ci sono degli uffici dove lavoriamo anche noi, lavoriamo a livello cantonale, dove sono centralizzati tutti gli uffici che riguardano l'organizzazione del Ticino. Quindi alcune cose che riguardano, per esempio, le prestazioni sociali della cassa malati, rimborsi medici, eccetera, si trattano a livello cantonale e bisognerà chiedere dagli uffici di Bellinzona. Ciò che riguarda domande, che riguardano la cassa malati, ci sono una stessa cantonale, la cassa è una storia cantonale, la cassa è una storia cantonale, l'organizzazione del Ticino, e in основale ci sono le centrali offi, ci sono anche lavorano, ci sono lavorano cantonale, lavorano in Bellinzona. E se bisogna rispondere problemi, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, per esempio, la loro vita, per esempio, per esempio, sull'esercizio dell'esercizio, quindi, se volete far riconoscere in Svizzera un diploma che voi avete in Ucraina, questo ha richiesto di fare la Berna, che è la capitale della Svizzera. E lì c'è un ufficio che decide per tutte le persone residenti in Svizzera, per esempio l'equivalenza dei diplomi. Un'altra particolarità della Svizzera, vedete, c'è una suddivisione proprio anche linguistica. Quindi c'è una zona della Svizzera dove si parla il francese, che è la zona chiaramente vicino alla Francia. La parte più consistente, qui si vede, quella colorata in rosso, dove si parla il tedesco. Ed è chiaro che c'è una vicinanza con la Germania e l'Austria da questa parte, dove si parla il tedesco. Un'altra parte, dove siamo noi adesso, è per quello che parliamo l'italiano. C'è la vicinanza con l'Italia e come vedete è una minoranza rispetto al territorio. Poi ci sono anche delle valli del Grigioni, dove si parla italiano. Poi c'è una quarta lingua in Svizzera, tante volte si dimentica, perché si pensa solamente a queste grandi nazioni che sono attorno a noi, che è il Romancio. Ed è parlato in alcune regioni solamente di un cantone, del Cantone Grigioni. Possiamo dire che quindi la maggior parte di chi è in Svizzera parla il tedesco e la percentuale è del circa, è rotondo, del 65%. Chi parla francese è circa il 25%. La lingua italiana è parlata da un 8% della popolazione. E il Romancio meno dell'1%. E il Romancio meno dell'1%. Voilà. Questo cosa vuol dire? Che noi subiamo tante le influenze delle nazioni che ci sono attorno. Quindi chi abita nella regione dell'Emano, Ginevra, Lausanna, è influenzato sicuramente dall'attività della Francia, di cosa succede in Francia. La maggior parte dei commerci che avrà in fondo invece la Svizzera centrale e nord-orientale con la Germania, quindi sopra di noi. La maggior parte dei territori dove si attraversa l'attività principale commerciale è la maggior parte del nemico, che si attraversa con la Germania, a sud di Germania, a sud di Svizzera. E noi in fondo dove siamo, qui nel canton Ticino, che abbiamo sicuramente una cultura italiana, aiutati anche dal fatto che qui non si vede, ma ci sono le Alpi. Le Alpi fanno già un po' una divisione tra il nord della Svizzera e poi noi. Un'altra conseguenza di questo plurilinguismo della Svizzera si riflette nel nostro sistema scolastico. Noi siamo una minorità, una minoranza, come ha spiegato Alain qui in Ticino. E allora, per esempio, i bambini a scuola imparano come prima lingua il francese e poi il tedesco. Invece i bambini che vanno a scuola nei cantoni di lingua tedesca imparano l'inglese. Ci sono quindi delle differenze a livello dei cantoni e quindi non tutti i bambini in Svizzera imparano le stesse lingue. Questo è bene per noi, siamo obbligati, ma meno riusciamo a parlare tre lingue, almeno tre lingue nazionali. E poi spesso anche nel nostro sistema scolastico l'inglese è opzionale, ma tanti dei bambini e dei ragazzi che vivono qui scelgono di studiare anche l'inglese. Ma c'è un anno obbligatorio e poi è opzionale. Allora, se va bene, guardiamo un po' come è organizzato. Abbiamo visto che c'è la confederazione, il cantone e il comune, che sono tre entità, in fin dei conti, indipendenti o che hanno almeno determinate indipendenze. Quindi vediamo come sono organizzati. Questo che vedete in fotografia è il palazzo federale di Berna, è quindi il centro del governo svizzero. Come vi dicevamo prima, la Svizzera è uno stato molto democratico dove il popolo decide, noi andiamo a votare molto spesso. Possiamo dire ogni due o tre mesi forse, più o meno. Sì, quattro o cinque volte all'anno. Almeno quattro o cinque volte all'anno noi andiamo a votare e spesso ogni volta votiamo su più temi che ci vengono chiesti. E possiamo votare sia per delle cose legate al comune, al cantone o alla confederazione. Dunque il Parlamento svizzero è composto da 246 membri. Ed è rappresentato doppiamente. Abbiamo una rappresentanza del popolo, quindi ogni cantone è rappresentato in funzione della sua popolazione. Quindi più il cantone è popolato, più ha dei rappresentanti a Berna. E poi un'altra parte del Parlamento invece è composta da due rappresentanti per ogni cantone. E la seconda parte del Parlamento, in cui c'è due rappresentanti per ogni cantone. Sì, c'è questa camera alta, chiamiamola così, è camera bassa, per vedere proprio la differenza, dove sono rappresentati i 46 membri del cantone e i 200 che invece rappresentano la popolazione. E qui torniamo a proprio forse. Forse al termine di democrazia, che deriva tra l'altro dal greco, quindi demos da una parte, popolo e kratos che è il potere, potere al popolo. E' chiaro che non tutti possono accedere, quindi vuol dire che noi mandiamo dei rappresentanti, in questo caso a Berna che ci rappresenta nel Parlamento. E quindi noi dovremmo поговорire a termini, che è la democrazia. Termin democrazia è la democrazia, che è la democrazia, cioè la democrazia è la democrazia. Potere al popolo Ah, no, questo l'ho detto, sì A che non tutti possono andare, bisogna essere eletti Ah, e quindi, per cui non tutti possono essere eletti Non tutti possono andare al Parlamento, quindi il popolo si chiama il loro dipendente Sì, è per quello che è una democrazia semidiretta, potremmo dire, no? Quindi è una democrazia semidiretta Quelli che vedete a destra è proprio il governo svizzero E allora c'è una particolarità, infatti, penso che se vi chiedevamo chi è il presidente della Svizzera Quasi nessuno lo sa Sì, a вот справa на картинке, то что вы видите, да, 7 человек Это про швейцарское правительство Вот это все швейцарское правительство И если сегодня спросить у швейцарца А как фамилия твоего президента Они не знают, многие не знают как фамилия президента Perché il nostro governo è composto da 7 persone E il presidente cambia ogni anno A turno, ognuno di loro sarà presidente della Svizzera per un anno E потому что само правительство состоит из 7 человек И каждый год выбирается новый президент То есть президентом является один год каждый из этих участников E ognuno è sulla sua regione di origine In questo momento il presidente della confederazione è Ignacio Cassis Cioè вот сейчас на фото каждый из этих представителей стоит на карте, вы видите, да, на своем регионе И в настоящий момент президентом швейцарии является Ignacio Cassis Который, который вы видите, который стоит на кантоне Тичина на карте, да? Quindi questa è anche la fortuna, abbiamo visto prima che siamo in minoranza Però almeno per un anno abbiamo il presidente Говорит вот удача для нас Несмотря на то что нас мало, мы в меньшинстве Но вот у нас президент Один год наш президент И в нашем парламенте 90 участников И вот эти пять человек, которые вы видите на фото, это правительство кантона Тичина Сегодняшние действующие И вот в настоящий момент президент Который как раз является директорами их боссом, не директором правильно, их руководством и который представляет министерство образования И каждый из них отвечает за определенный сектор, у каждого свои competенции И сейчас через несколько минут Это такой исключительный на самом деле случай Когда к нам гости придут два консильера, два представители правительства Тичинского То есть они представители министерства, которые здесь называются департаменты Сегодня мы познакомимся с Норманом Гобби То есть он представители, департаменты, департаменты, которые отвечают за работу всей полиции, за работу миграционных офисов и так далее И второй, который мы увидим скоро, Рафаэль Де Роза А он как раз курирует все вопросы, которые вам сейчас интересны, которые касаются медицинских выплат, страховок, которые касаются социальных выплат, то есть он курирует всю социальную сферу Итак, все эти представители, которые выбирают, то есть все эти представители, все выбраны народом Каждые четыре года мы идем голосовать и выбираем участников как в парламент, так и в правительство Тичина И это же касается и следующего уровня, то есть это же касается и муниципалитетов и коммун, то есть точно так же выбираются ответственные То есть мы не сделали фото, потому что мы не знаем еще в какие муниципалитеты, в какие коммуне вы пойдете Ну например, коммуна Мендризио, Мендризский, можем сказать, муниципалитет состоит из семи участников И как мы уже говорили раньше, если у вас есть какой-то вопрос относительно коммунальный, который курирует коммуны, значит вы должны пойти в коммуну, обратиться к специальному секретарю коммунальному, который поможет решить ваши вопросы Окей, поэтому мы вернемся к главному, то есть все, 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 все муниципальные власти, все кого вы видите, участников которых вы видите были избраны нами То есть государство это есть народ и государство это для народа Говорит, это не я сказал, это Аврам Линкольн сказал Но есть маленькое исключение И вот это маленькое исключение это то, что мы выбираем парламент, но парламент выбирает правительство, то есть вот этих семь человек выбирает именно парламент Говорит, это то, что мы хотели рассказать вам сегодня Мы можем ответить на все интересующиеся вас вопросы, касающиеся нашего сектора, не касающиеся других вопросов, да, каких-то департаментов которые презентуют свою деятельность вам в другой веке Спасибо!